Prima sconfitta esterna per la Feralpi Salò. La formazione gardesana assapora il gusto amaro di un K.O. in campionato dopo 273 giorni. L'ultima volta era stato il Bassano a rendere amaro il viaggio dei leoni del Garda, questa volta è toccato al Padova a far storcere il naso a Leonarduzzi e compagni, 2-0 il punteggio in favore dei biancoscudati e leugane, un punteggio maturato nella ripresa grazie all'euro-goal di Corti e al sigillo di Sparacello a tempo scaduto, ma soprattutto alla superparata nel finale di Pektovic su colpo di testa di Cesaretti. Una Feralpi Salò orfana di Tantardini con il neopapalberto Quadri in cabina di regia in luogo di Alex Pinardi, in attacco, assente ancora Romero, con guerra, torturi e bracaletti a comporre al tridente offensivo in difficoltà sul terreno scivoloso e inzuppato dello stadio Patavino. Verde e blu meno brillanti del solito sul piano del palleggio delle geometrie, a subire la voglia e la verve degli uomini di Piloni. Eppure l'inizio di gara vedeva la Feralpi Salò prevalere con due buonissime occasioni. Nella prima Maracchi veniva atterrato in area di rigore, ma per l'arbitro il penalty rimaneva una chimera. Qualche manciata di minuti più tardi era tortura e chiamare Petkovic alla grande parata. La spinta salaudiana si esaudiva qui, lasciando campo e gioco al Padova con i padroni di casa a premere sull'acceleratore, in particolare nella ripresa. Dopo un brivido per Caglioni su colpo di testa di Altinera alla mezz'ora, Corti pescava il jolly da posizione impossibile. Avventandosi su una respinta dalla difesa, a oltre 30 metri dalla porta, il centrocampista Patavino calciava di prima intenzione mettendo palla incredibilmente in rete con la complicità della traversa. Un gol d'antologia del calcio applaudito anche da Imudiani in panchina. Il cuore dei leoni del Garda produceva però al 46esimo della ripresa la palla del possibile pareggio. Il colpo di testa di Cesaretti su corner era preciso e puntuale, ma Petkovic negava la gioia del gol al calciatore toscano. E in contropiede il Padova metteva a segno il 2-0 con Sparacello. Per la Feralpi salò nulla e comunque perduto, grazie ai risultati maturati dalle altre squadre, la compagine del patron Giuseppe Pasini è ancora seconda in classifica a quota 37 punti.